Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo di narrativa contemporanea. Una storia di condanna e di salvezza che indaga le crepe più buie e profonde dell'anima per riempirle di compassione, di vita e di luce. La trama del libro Cuore Nero, della scrittrice Silvia Avallone, casa editrice Rizzoli, è la seguente. L'unico modo per raggiungere Sassaia, minuscolo borgo incastonato tra le montagne, è una strada sterrata, ripidissima, nascosta tra i faggi. È da lì che un giorno compare Emilia, capelli rossi e crespi, magra come uno stecco, un adolescente di 30 anni con gli anfibi viola e il giaccone verde fluo. Dalla casa accanto, Bruno assiste al suo arrivo come si assiste a un'invasione. Quella donna ha l'accento foresto e un mucchio di borse e valigie. Cosa ci fa lassù, lontana dal resto del mondo? Quando finalmente si incontrano, ciascuno con la propria solitudine, negli occhi di Emilia, privi di luce, come due stelle morte, Bruno intuisce un abisso simile al suo, ma di segno opposto. Entrambi hanno conosciuto il male. Lui perché l'ha subito, lei perché l'ha compiuto. Un male di cui ha pagato il prezzo con molti anni di carcere, ma che non si può riparare. Sassaia è il loro punto di fuga, l'unica soluzione per sottrarsi a un futuro in cui entrambi hanno smesso di credere. Ma il futuro arriva e segue leggi proprie. Che tu sia colpevole o innocente, vittima o carnefice, il tempo passa e ci rivela perciò che tutti siamo. Infinitamente fragili. Fatalmente umani. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.